L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato la legge regionale che disciplina forme di collaborazione interistituzionali in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità. La battaglia del garante per i diritti dei detenuti per la realizzazione di un teatro nel carcere di Volterra. Nasce Italian Taste Experience 2019, il primo salone italiano delle specificità e delle creazioni agroalimentari che si svolgerà il prossimo ottobre a Grosseto Fiere. Premi Architettura Toscana, nominati sei vincitori del concorso. La nuova legge sulla sicurezza nel lavoro Una cabina di regia tra istituzioni in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità. È quanto stabilito da una legge regionale ed iniziativa della Giunta approvata a maggioranza in consiglio. Su 30 consiglieri presenti, 26 hanno votato a favore, astenuti 4 consiglieri. La legge mette in norma ciò che già esiste nella prassi e ricalca di fatto il modello Prato, quell'insieme di accordi tra soggetti pubblici, associazioni di categoria, sindacati e forze dell'ordine, nati per aggredire il fenomeno a seguito della tragedia del Teresa Moda e strutturati poi in un piano di azione collettiva, il cosiddetto piano lavoro sicuro, per la prevenzione e il rispetto delle regole contro ogni sfruttamento. Abbiamo in questi anni lavorato tanto sul controllo nelle aziende, in collaborazione con tutti gli enti e le forze dell'ordine e abbiamo raggiunto un risultato molto positivo. Quando si parla di legalità credo che questo rappresenti uno degli esempi eccellenti, fra l'altro è un unicum in tutta Italia, dove davvero si è costruito un percorso solido. La cultura della legalità è un qualcosa che si combatte tutti insieme, coordinandosi, raggiungendo dei risultati come quelli che abbiamo raggiunto qui. Quali gap potrà colmare? I gap sono quello dei controlli, quello della messa a norma dei capannoni, la carenza di personale nelle amministrazioni. Insomma, quindi avere una maggiore efficienza di lavoro nei controlli, una maggiore efficienza nelle verifiche, in tutte quelle che sono le attività che vengono portate avanti nei comuni proprio perché ci sia il rispetto delle regole nei luoghi di lavoro. Ormai non possiamo più tollerare che ci siano morti nei luoghi di lavoro. Il provvedimento regionale prevede che la collaborazione tra le diverse istituzioni si strutturi come già avvenuto tramite la sottoscrizione di accordi, indica poi la formazione di una cabina di regia e tavoli tecnici per la messa a punto delle strategie e la redazione di un programma annuale delle attività svolte e di rapporti periodici. Per rafforzare l'operatività degli uffici giudiziari toscani, la regione può inoltre distaccare proprio personale, dare indirizzi agli enti del servizio sanitario regionale per la messa a disposizione di proprio personale e assegnare a questi uffici i giovani del servizio civile toscano. Anche questa proposta di legge ci è sembrata oggettivamente di buon senso perché va a stimolare accordi sotto forma sia di cabina di regia che di tavoli tecnici tra i soggetti che sono volti a tutelare la sicurezza del lavoro, l'ambiente, la cultura della legalità, la salute, settori particolarmente delicati in cui riteniamo lo schema convenzionale tra i diversi soggetti pubblici e privati preposti sia uno schema importante. Quello che ho sottolineato io è che benvenga questa richiesta e questa attuazione di coordinamento però si torna sempre allo stesso ragionamento. Se non ci sono potenzialità da sviluppare, se non c'è personale ad hoc dedicato, si fanno al solito tanti propositi però poi nell'attuazione si rimane completamente indietro. Vanno bene tutti gli impegni però se non si spinge su un aumento del personale che sul territorio e sul campo poi attua tutti questi propositi non si raggiunge poi l'obiettivo previsto. Io credo che l'importante sono due gli aspetti. Uno, trasmettere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Fare sicurezza, fare sicurezza e questo lo so bene per ragioni ripeto lavorative, fare sicurezza è un costo però è un costo che in qualche maniera bisogna che il tessuto imprenditoriale se ne faccia carico perché è un aspetto fondamentale, importante. Perciò qualunque cosa viene fatta nella direzione della sicurezza dei luoghi di lavoro ecco ci vede di condividere questi provvedimenti. I progetti per il teatro nel carcere di Volterra. Io ho scelto di partire con una rivendicazione in nome dell'arte, della bellezza e della cultura perché in carcere c'è bisogno di sviluppare le capacità anche dei detenuti per ripensare il passato, progettare il futuro e la cultura e il teatro sono fondamentali. Affrontare la detenzione a colpi di teatro è la battaglia che sta portando avanti il garante regionale dei diritti dei detenuti Franco Corleone per il carcere di Volterra. Il sogno sull'onda dell'esperienza trentennale della compagnia di Armando Punzo è quello di costruire nella fortezza Medici a un teatro stabile al servizio dei reclusi. Adesso abbiamo una condizione unica perché c'è il finanziamento, ci sono i progetti fatti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dall'architetto Barletta che è qui con noi oggi, bisogna fare una scelta quale progetto e iniziare i lavori. Qualcuno dirà ma perché c'è questo tappo? Probabilmente perché qualcuno pensa che questi progetti turbino l'architettura del carcere, ma io non credo che sia così, quindi oggi daremo 15 giorni a chi ha il potere di veto o di consenso mancato finora per poi passare ad azioni anche più eclatanti. Intanto abbiamo lanciato una petizione che sta raccogliendo già centinaia e centinaia e centinaia di adesioni e credo che dovremmo rompere questo guscio di immobilismo incredibile e incomprensibile. L'architetto Ettore Barletta, direttore dell'ufficio tecnico dell'amministrazione penitenziaria, ha presentato anche un ulteriore studio per la realizzazione di una sala con 200 posti per la fruizione del pubblico, un progetto che ancora deve essere sottoposto ai pareri tecnici e della sovrintendenza. Si tratterebbe di costruire una sala teatro nel bastione del Cassero, una zona che al momento non viene utilizzata. La lunga esperienza della compagnia nel carcere, sviluppata a partire dal 1988, ha modificato geneticamente un carcere che in passato era noto per la sua durezza e il suo isolamento, ha attraversato lo spazio della pena costruendo ponti con la società esterna e realizzando una metodologia di lavoro teatrale apprezzata e studiata a livello internazionale. Dall'inizio noi abbiamo pensato, la nostra esperienza è come veramente un teatro, quindi quello che ci mancherebbe adesso è avere una struttura che ci permetta di fare ancora meglio e il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. Che significa questo? Sicuramente non è la questione di avere un tetto e una casa, è veramente avere la possibilità maggiore di fare formazione, di poter fare spettacoli per le scuole durante l'inverno anche, quindi perché noi possiamo lavorare solo in estate e presentare i nostri lavori solo all'estate all'interno del cortile. Con questo abbiamo fatto cose straordinarie, ma ci manca sicuramente questa possibilità ulteriore. Costruire una piattaforma commerciale per le produzioni di nicchia nel settore della trasformazione agroalimentare toscana e italiana di alto livello, valorizzandone i rapporti con il territorio. Nasce per questo Italian Taste Experience 2019, il primo salone italiano delle specificità e delle creazioni agroalimentari che si svolgerà il prossimo ottobre a Grosseto Fiere. A fare gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione del progetto a Palazzo del Pegaso è stato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni. L'iniziativa è nata da Artex, il centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana. Partneri dell'operazione saranno anche le due associazioni di rappresentanza a livello regionale, sia quindi Confartigianato e CNA, e quindi al culmine di questo lavoro siamo in grado di presentare per la fine di ottobre questa piattaforma che si realizzerà al centro Fiere di Grosseto, quindi al Madonnino, che dovrebbe vedere circa 200 espositori tra comparto del vino e del food, tanti operatori commerciali, tanti buyer, tante iniziative collaterali, perché l'operazione è un'operazione congiuntamente di marketing di prodotto e di marketing territoriale, quindi noi contiamo in queste giornate di promuovere non solo le eccellenze della trasformazione agroalimentare toscana-maremmana, ma di promuovere la Maremma e più che altro la Toscana come territorio. Quindi i buyer saranno accompagnati a visitare questi gioielli che sono la Toscana e la Maremma, ci saranno tante iniziative collaterali e tanti show cooking. Un racconto al mondo fatto di cultura, paesaggio e buon cibo, tenute insieme dalle attività economiche. L'iniziativa, ed è questo l'auspicio dei promotori, potrà avere riflessi significativi per l'intera Toscana. Siamo consapevoli che in realtà la Toscana, che rappresenta una superficie dove l'agricoltura trova ampio spazio, negli stessi chilometri quadrati in Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti, in Toscana ci sono 3 milioni e 700 mila abitanti. Quindi nella nostra regione c'è molto spazio per l'agroalimentare e vediamo quanto ad esempio il vino riesce ad essere una delle fonti di esportazione che fa risaltare i dati a livello internazionale. Ma non c'è solo il vino, c'è una produzione agroalimentare che dalla Maremma a autenticità di una parte importante del territorio toscano riesce sui prodotti agroalimentari a fornire eccellenze. Questa diventa la vetrina per poter mostrare queste eccellenze che hanno una proiezione sul piano internazionale e quindi danno una spinta forte alle esportazioni. I premi dell'architettura C'è anche il progetto Pratese Shelter, tassello del piano di riqualificazione del Macrolotto Zero, tra i vincitori della seconda edizione del Premio Architettura Toscana, l'iniziativa organizzata dal Consiglio regionale insieme ad altri soggetti, tra cui l'Ordine degli Architetti di Firenze e Pisa, nata per stimolare la riflessione attorno all'architettura contemporanea. Uno sguardo al futuro che indaga l'architettura come elemento centrale nella trasformazione del territorio e della qualità dell'ambiente. Valorizzando i talenti di professionisti che sul piano dell'architettura in Toscana possono dire la loro e conseguentemente è giusto che le istituzioni li incoraggino a esprimersi con quella creatività che dalla cupola del Brunelleschi noi leggiamo nella storia e nel lavoro dell'architettura in Toscana. Sei, i progetti che si aggiudicano il premio nelle cinque categorie previste e per cui hanno concorso sia singoli architetti che gruppi di professionisti o imprese. Primi nella categoria Opera Prima arrivano a Exequo il Podere Navigliano a San Giovanni d'Asso, progetto realizzato da Ciclo Stile Architettura, e la casetta nell'Oliveto a Serravalle Pistoiese ad opera di Hypnos Nicola Brembilla. Vincitore della categoria Opera di allestimenti o interni è stata la nuova illuminazione della Basilica di Santa Croce a Firenze realizzata da Microscape, mentre il primo premio della categoria Opera di nuova costruzione è andato alla foresteria del Pellegrino di Siloe, a Cinigiano, in provincia di Grosseto, di Edoardo Milesi e Arcos. A conquistare la categoria Restauro o Recupero sono stati gli arsenali della Repubblica di Pisa, firmati da Fabio Daole e Mario Pasqualetti, mentre la categoria Spazi pubblici, Paesaggio e Rigenerazione è andata appunto al progetto Shelter di Prato, realizzato da E.Cole, un dispositivo urbano smontabile e itinerante inserito nel piano di rigenerazione del Macrolotto Zero. Tutti i progetti vincitori sono visibili all'interno della mostra allestita alla Palazzina Reale di Firenze in Piazza Stazione fino a venerdì 21 giugno. L'esposizione toccherà in seguito tutte le province toscane.